La Regione Abruzzo metterà in atto ogni azione documentale e procedurale possibile per scongiurare l'aumento dei pedaggi autostradali che potenzialmente potrebbero scattare a partire dal prossimo dicembre. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri commentando i due documenti votati ieri in aula contro l'aumento del 19-20% dei pedaggi della 24 e della 25 ad opera di strada dei parchi. Un tema che questo governo deve affrontare. Già abbiamo ricevuto la cattiva notizia del non riconoscimento della calamità che tale è stata della grandinata del luglio ma su questo la battaglia non è affatto conclusa e rilanceremo in fase di finanziaria. Ora entro l'anno va assolutamente risolto il problema della ipotesi che salti la sterilizzazione degli aumenti dei pedaggi. Il Ministero si deve sedere con la concessionaria autostradale che ha sterilizzato questi aumenti per più di anni quindi saturando una mole considerevole di avanzo secondo quanto era stato stabilito nel contratto di concessione e non ci devono essere gli aumenti quindi bisogna provare il piano economico finanziario e discutere di una tariffa che sia sostenibile per gli utenti. La battaglia la fa la farà la regione ovviamente con chiunque voglia fare questa battaglia. Mi pare che ci siano delle forze politiche che siedono in regione come il partito democratico e l'elemento 5 stelle e in questo momento governano la nazione. C'era stato un lavoro fatto dal precedente ministro dell'infrastruttura Doninelli adesso attendiamo qualche risposta dall'attuale del nuovo ministro dell'infrastruttura De Micheli.